L'emozione popolare è un modo di rapportarsi al sacro che passa attraverso il corpo, le emozioni. Tutti quanti noi ci appelliamo ad una forza superiore e tutti ne abbiamo bisogno. C'è una mutua identificazione del santo con il popolo e del popolo con il santo. La vincenza è stato un amico che in un quartiere si è fatto sentire, si è fatto amare. Gennaro è il padrone di una città, ha un'altra responsabilità. Indagine ai confini del sacro, lunedì in seconda serata e il sabato alle 8.